Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale Io sono Platican68 e benvenuti in questo nuovo video Siamo nella sesta parte di J-Stars Victory vs Plus E nella scorsa parte dopo aver preso il cannone C'è stato un piccolo fuorionda In pratica la mia nuova si è bloccata E una forza maligna si è impossessata di Ace e Pegasus Che quindi in pratica sono usciti dalla nostra squadra Però è entrato a far parte ovviamente della nostra squadra un altro personaggio Che è Nube Come avete potuto vedere dai dialoghi lì in basso E ci ha detto che dobbiamo trovare delle perle consacrate Diciamo per far tornare Ace e Pegasus alla normalità da quanto ho capito Allora qui c'è una cassa Vediamo subito di cosa si tratta Ma credo che potrebbero essere proprio le nostre perle Vediamo Ok infatti si tratta proprio delle perle Andiamole a prendere Ok prendiamole Ok si tratta delle perle consacrate Hai tenuto le perle consacrate Adesso possiamo salvare Ace e Pegasus Vero? Si torniamo subito da loro Quindi dovremmo essere in grado di salvare Ace e Pegasus Proviamo un poco Ok eccoli qui Infatti se notate già dallo sguardo Sono inquietanti eh Guardate lo sguardo di Pegasus Allora Ace e Pegasus tranquilli Siamo qui per salvarvi Vediamo Ok siamo quindi al primo combattimento Secondo me ragazzi Qui ce la vedremo davvero dura eh Contro Ace e Pegasus Vediamo un pochino questo combattimento Ok ragazzi Perché secondo me dei due è il più forte Raga guardate quanti danni mi fanno Sono pazzeschi Mi fanno un danno pazzesco eh Quindi direi che devo utilizzare Un bel po' di mosse che sfruttano Laura qui Perché altrimenti sarà davvero durissimo eh Allora Vediamo un pochino Intanto Io ho bloccato La ricarica Del vigore Ad Ace E qui Allora Però a me non si ricarica il vigore Stranamente Ah ecco Ok sta ricominciando a ricaricarsi Forse qualcuno mi aveva fatto qualche mossa Che me lo bloccava Non lo so Ma forse devo stare fermo Dai dai Comunque stiamo andando benino eh Dai dai Continuiamo così Iniziamo gli attori Ok perfetto Abbiamo tolto la vita Andiamo a prendere subito Pegasus E gli facciamo la furia V Dai non so quelle perle cosa si No oddio mi ha preso Liberati Dobbiamo fare subito l'attacco supremo Che ne dobbiamo fare due vai Perfetto Perfetto la prima vita Anche a Pegasus L'abbiamo tolta Ok ci siamo giocati però Il secondo attacco supremo Comunque non dovrebbe essere Un problema più di tanto Perché comunque Stiamo in vantaggio Per 2 a 0 Qui eh Ok allora Come non detto Anzi ragazzi Stiamo Sì stiamo 2 a 1 Ok Pensavo stavamo 2 a 2 Anche se però Nube mi sta Crepando lì eh Quindi noi Concentriamoci su Ace Perché è quello là Che sta per crepare di più Diciamo Allora Vediamo di fargli La mossa che tanto Mi piace a me Infatti è spettacolare E facciamo un bel gear second Allora Proviamo un pochino A fare Ok La mossa più stupida Che potevo mai fare Oddio ragazzi Fanno anche la furia B Qui secondo me Ce la vediamo brutta eh Quindi andiamo di nuovo A beccare subito Ace Sperando che non ci fa Ok Stavo per dire Speriamo che non ci fa La furia B addosso Mamma mia raga Che mossa Che cos'è Ok raga Sembra che Comunque Il mio rufi Abbia resistito Abbastanza eh Tanto questo scenario È parecchio pesante Sembra Ok dai 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 Ok perfetto È il primo scontro È andato A buon fine Quattro Ok, quindi sembrano tornati Buoni Ace e Pegasus Ok, quindi Nube ha lasciato il nostro gruppo E quindi torniamo con la squadra originaria di sempre Quindi con Ace e Pegasus E abbiamo ovviamente anche Boehancock Che però al momento ancora non ha combattuto Ok, quindi dobbiamo andare al fiume di lava spirituale Ok, quindi siamo arrivati al fiume di lava spirituale Abbiamo anche il cannone Quindi dovremmo essere in grado di distruggere questo masso Vediamo un pochino Ok, quindi siamo in grado di passare Attenzione alla lava però, eh Ok, meno male che voliamo E dovremmo entrare qui, no? Nelle rupi infernali Ok, abbiamo Kaoru Che sinceramente non so chi sia Sanosuke E Yaiko Che Sinceramente non conosco nessuno dei tre Vediamo un pochino Avevamo anche trovato la gemma della passione Ok, quindi abbiamo anche ottenuto la gemma della passione Che non ricordavo nemmeno che la cercavamo, diciamo Che è una parte della nave, intanto, eh E' un pochino a cosa serve Ah, ok Serviva ad azionare la chia del valore Ah, perfetto Quindi ora voliamo proprio Ok Possiamo raggiungere finalmente i mondigi olivi Ok Che hai intenzione di fare? Testa di legno Stai forse cercando di distruggere la nostra nave Testa di legno è bellissimo però, eh Ah, ok Non mi viene Non mi viene il nome Sembra tanto Ken con la spada Però non mi viene il nome Ah, ok C'è anche la forma buona Me ne occuperò io Sembra di essere i miei gemelli Sono Momotaro Tsurugi Se si dice così Capo degli studenti del primo anno Dell'Otoko Juku Otoko Juku Ok, quindi combatteremo con Momotaro e Pegasus come supporto Iniziamo subito lo scontro Perfetto, quindi dobbiamo sfidare praticamente il nostro compagno di squadra Che raga, non so se avete notato Infatti perché ha l'energia così bassa a noi? Non ho capito E anche noi abbiamo l'energia bassa O prima ce l'ha tolta quando ci ha fatto con l'attacco Se non sbaglio Momotaro E' un po' strano Iniziamo subito Pegasus Per avvantaggiarci un pochino qui, eh Secondo me questo qui Dobbiamo fare molta attenzione Quando sono Diciamo in Inferiorità numerica Secondo me bisogna sempre stare attenti Però per il momento Ce la stiamo facendo, eh Cioè più o meno ce la stiamo facendo Ok Abbiamo fatto un bel bazooka E direi di ricaricarci subito per fare un gear second Eccolo qui Subito col gear second Eh ok Volevo attaccarlo però L'ha fatto prima lui Però gli facciamo la mossa che tanto piace a me E gli facciamo anche la furia via E ora mi sale un dubbio Non è possibile che possano anche i miei alleati fare la furia via Cioè l'attacco supremo No Infatti lo sta facendo Momotaro Il nostro Momotaro però Vediamo un pochino No Cioè l'ha fatto lui Ragazzi Ragazzi non ho capito cosa è successo Però intanto mi si stessa Rendo l'attacco supremo Quindi facciamolo Vediamo cosa succede Ok Ok l'abbiamo preso Più o meno Diciamo Non come pensavo O speravo Però L'abbiamo preso Allora Continuiamo Che siamo vicini alla vittoria Intanto questo passa attraverso i muri Vabbè Comunque l'abbiamo sconfitto Meno male Intanto si fa lo schermo tutto marrone Un filtro marrone Vabbè Comunque abbiamo vinto anche questo scontro Come vi Comunque l'abbiamo Cioè l'abbiamo Cioè l'abbiamo Ok, nel frattempo sulla nave di Toriko Che succede? Raga, ma il frammento di emblema eroico non lo avevamo noi Oh, forse ci sono molti frammenti Il timone della nostra nave si è rotto Nel mio giorno sfortunato Ci schianteremo Ok Quindi ci sono schianti continui in questo gioco Vediamo che succede Oh, guarda lì l'hanno evitato Assurdo Solo non riusciamo ad evitarlo Ok, questo qui è Lucky Man Ci siamo fermati e la nostra nave salva Che fortuna, ma quello è un frammento di emblema eroico Che fortuna di essere tutto nostro Quindi si sono rubati praticamente l'emblema degli altri Tra l'altro abbiamo la buona stella Ci sei da come se stai bene Hai avuto fortuna Possiamo aiutarti se hai bisogno Ok ragazzi Quindi facciamoci anche questo scontricino E poi direi che possiamo concludere qui l'episodio Vediamo un pochino Ah, quindi utilizziamo Toriko Avrei voluto utilizzare Goku sinceramente Però Vabbè, non è che mi dispiace più di tanto Dai Goku lo abbiamo utilizzato Allo spinimento su Xenoverse Tanto guardate Toriko come attacca Praticamente Fa degli attacchi che sembrano delle lame Ah, quindi Goku lo abbiamo come supporto Infatti fa la Kamehameha E un po' Toriko cosa fa? Ah, ok Fa... Non so cosa sfrutti Il vento forse Però pensavo che facesse tipo qualche mossa alla Goku Sempre Perché Toriko lo vedo un pochino Una specie di Non lo so Di copia di Goku, va? Allora Vediamo un pochino Dai Goku Ok Scusiamo Proviamo a fare La mossa con L1 Vabbè Come non detto Con R1 pure si faceva qualche mossa Ok Sta facendo qualcosa Toriko Ah Non ho capito che ha fatto Sinceramente È qui Vabbè Iniziamo a soffrire un pochino la Kamehameha Perché Non vorrei Che ci distruggesse Ah ok Toriko praticamente La ricarica dell'aura Del vigore Volevo dire La fa mangiando Quello che potrebbe fare Goku In pratica Allora Dai Togliamogli subito Sta vita Togliamogliela subito Ok Abbiamo tolto la vita Proviamo a ricaricarci di nuovo Sì infatti Ricarica mangiando Vabbè Lasciamo un pochino aperto Rigo Fermo Fermo Ok Si è fermato Volevo provare un poco Quella mossa che stavo facendo prima Poi cosa fa? Ah ok Ho capito Sembra tipo la mossa Che faceva Gon di Anterante Allora Usiamo subito la furia B Perché vorrei concludere Questo scontro Ok Ok raga Non so se avete visto Ma la figata di questa mossa È che praticamente Torrico cacciava Delle forchette Intanto ci ha messo pure che un po' Delle forchette Immaginare Non lo so Di cosa erano fatte Sinceramente Però era davvero fighissimo Ok Fiamo una kamehameha Ovviamente non lo becchiamo Di striscio Dai Dai che lo abbiamo quasi buttato giù Dai facciamo un bel colpo Utilizza il vigore Su laggy man secondo me Raga Non è niente di che Però Sembrava che diceva Odoken Dai Rettiamolo giù Ok Meno male Non è niente di che E Ok Ok ragazzi Quindi direi che questo episodio si può concludere qui Credo sia stato un episodio abbastanza lunghetto Abbiamo fatto un bel po' di cose E nel prossimo episodio quindi andremo ai Monti Giulivi Quindi io vi do appuntamento col prossimo video Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti